Sono tre grandissimi giocatori. Diversi? Sì, diversi, totalmente. Chi senti più vicino a te? Messi credo che è il migliore di tre. È diverso lui. Ha la palla al piede come non la tiene né Guain né Di Bala. E sicuramente Di Bala crecerà come giocatore. E Guain continuare a fare gol solo perché non è della categoria di Messi e di Bala con la palla. Con la palla è un pochettino così così.